Emmanuelle Macron ha ereditato una Francia depressa, in pezzi, incerta sul suo futuro. Ancora non ha elaborato una grande strategia, ma certamente è consapevole che su questa strada il futuro della grande nazione si presenta piuttosto grigio. Per questo il ragionamento strategico francese deve emanciparsi dalla pura logica esagonale o semplicemente europea per proiettarsi nel mondo. D'altronde la Repubblica Francese è erede di un grande impero che ai tempi migliori si estendeva su 13 milioni di chilometri quadrati nei cinque continenti e in altrettanti oceani. Oggi di quell'impero restano alcuni coriandoli, alcuni importanti, altri meno, diversi in condizioni di sofferenza. Eppure per questo la Francia è oggi il paese con il più ampio spazio sottomarino al mondo e il secondo spazio marittimo del pianeta. Non vedere questa dimensione extraeuropea significa amputare le prospettive geopolitiche dell'esagono. Nel nostro volume non esaminiamo solo gli aspetti strategici, militari e tutto quello che concerne la proiezione anche culturale della Francia nel mondo. Ne studiamo e ne analizziamo anche i caratteri profondi, quelli di uno Stato che domina il paese, paese in cui i cittadini si sentono figli dello Stato e in cui l'alta amministrazione, di cui Macron è la massima espressione, esercita il potere decisivo. Molto diversa quindi sia dall'Italia che dalla Germania, eppure ossessionata nei decenni del dopoguerra dalla necessità di imbrigliare la Germania. Progetto fallito che ora Macron cerca di rinverdire con un secondo trattato dell'Eliseo, ma che probabilmente non andrà da nessuna parte. No, il futuro della Francia non è in una più grande Europa, ma in una sua capacità di adeguarsi al mondo che cambia e di proiettarvi un'antica influenza.